Ciao carissimi, oggi un altro video da Kyoto e vi porto a vedere il mercato di Nishiki in pieno centro appunto qui a Kyoto. Allora, quello che vedete laggiù in fondo è il centro più centro di Kyoto, Shijo Kawaramachi. A circa 100 metri dall'incrocio appunto di Shijo Kawaramachi c'è questo inizio della galleria che è Shinkyou Goku e entrando qui dentro si arriva al mercato di Nishiki. A circa 100 metri dall'entrata della galleria trovate questo spazio qui, questo tempio qua, guardate, e qui sulla sinistra, Teramachi, inizia appunto il mercato. Ed eccoci qua entrati dentro il mercato, oggi è domenica e c'è veramente tantissima gente. Questo è uno dei mercati più tradizionali di tutto il Giappone, dove puoi trovare prodotti tipici. Questi sono gli tsukimono che sono, come dire, l'equivalente giapponese dei nostri sottacenti. Guardate, questi a me adesso piacciono ma per molti anni non sono riusciti a mangiare, non sono riuscito a mangiarli. Guardate qua, vendono i cetrioloni a stecco, questo che è da Icon sotto, penso sia miso. Questo è uno specializzato in questo tipo di cose. Guardate. Poi abbiamo questi pompelmi che potete prendere, da cui potete succhiare appunto il succo direttamente. Questo che è per esempio un negozio specializzato in frutta secca, vedo anche se. Questa è la salatina di wasabi, che sono la mameya-san, anche infatti vendono anche i fagioli, questi sono fagioli. Ci sono anche molti posti in cui mangiare qui. Un altro negozio di tsukimono, Kyoto è molto famosa appunto per tsukimono. In questa parte, vedete, qui abbiamo tantissimo pesce secco, che è molto, vedete, queste sono dica, seppia. Quella lì sono, è seppia, dovrebbe essere affumicata, che si mangia molto spesso d'estate insieme alla birra. Ancora dei fagioli, piccoli pesci che possono essere mangiati così, questo è un udon. Qui abbiamo ancora pesce, pesce secco. Poi qui abbiamo un negozio di artigianato tradizionale per le pentole. Ancora tsukimono, guardate. Anche qua c'è anche pesce. Queste sono quaglie. Queste sono quaglie. Ah, questo è molto famoso, il polipo. Questo è il polipo con dentro l'uovo, l'uovo di quaglia. Sempre pesce secco. Ancora un negozio specializzato. Ah, questo è insalatini, zembe. E anche dolci, vedo. Qui fanno le castagne, gli akiguri. Ora, voi non potete sentire l'odore, ma gli odori qua sono veramente tanti. Questo è tutto pesce secco. Vedete? Ancora fagioli, intanto mi stanno venendo addosso un sacco di persone. Guardate che ostriche. I ricci di mare. Ancora il polipo con dentro l'uovo. Poi è la seppia. Qui abbiamo della seppia con, a occhio e croce, sono delle capesante. Bellissimo. Qui abbiamo un negozio specializzato in zori. Sono queste le scarpe tradizionali giapponese. Questo che è un negozio specializzato in tè. Guardate quanti tipi di tè. Matcha, zensha. Gemmacha. Questo è un negozio famoso invece per i daifuku. Con dentro la marmellata di anko. Ancora pesce. Guarda qui. Sempre pesce. Qui abbiamo tantissimi fagioli. Oh, qui abbiamo un negozio di sushi. Sushi, temari sushi. Guardate. Gli mancabili sample. E come si presenta il cazzo bushi. Cioè quelle scaglie che si mettono sopra l'okonomiyaki. Ecco questo qua. Così. E questo è il pezzo da cui viene grattugiato. Che vedete, sembra legno. Specializzato in sake. Guardate qui. Questo sake qua è stato bevuto da Obama. Qui è da giro. Sukiabashi giro insieme al premier Abe. Quanti. Questa è carne. Oh, questo che sono praticamente un impasto di pesce. Un tipo formaggio di pesce lo chiamano. Kamaboko. Questo qua. Può non piacere. Ah, questo è un negozio specializzato invece in tamagoyaki. Ecco il tamagoyaki. Andiamo avanti. Ancora il tsukimono. E anche di qua. Questo è un negozio che fa pesce e tempura. Guardate, questi sono, vabbè, sono ad esempio, ma questa è la granita alla giapponese. Questi altidolci tipici. E questi no. Un negozio di fiori. Sempre pesce. Dove vende frutta. Vediamo quanto costano qua. Come un cucomero. 2500 yen. Come a Tokyo per me. Questo altro negozio specializzato in fritto. Un sacco di pesce. Una gastronomia. Praticamente. Guardate quante cose vendono. Quante robe, stavo dicendo. Avrei preferito fare un video in un altro momento, ma tanto ormai da ora in poi sarà impossibile fare video senza gente intorno. Avviamo verso la fine del mercato. Qui c'è, ci sono, questo negozio che fa questi dolci al gusto di tè verde. Anzi, a Warami Mochi, non l'avevo visto. Poi dopo questo negozio di alghe varie. Combo, visto. Questo è il negozio classico. Si arriva poi alla fine del mercato, che è questa. Ecco qua. Ora adesso io mi giro e ve lo faccio vedere da lontano. Bene, anche per questo video è tutto. Ho fatto un sacco di fatica oggi per entrare dentro questo mercato, soprattutto per uscire. E poi è un caldo... Qui a Kyoto è sempre veramente molto molto caldo. E' domenica, ci sono tanti gruppi di turisti, principalmente americani e cinesi, quindi non è stato facile uscire da quella bolgia. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale di YouTube se è la prima volta che vedete un mio video. Il video di Instagram, la pagina Facebook e il mio sito www.dondake.it Al prossimo video da Giappone. Ciao! Giappone. 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 Grazie a tutti.